In Baraccopoli ci sono esattamente cinque tende e praticamente il ristorante per mangiare. Non c'è male, siamo a un passo dalla Chiuso del Reno vicino al ponte della Grande Velocità. Qua siamo già in quartiere Navile, è già stato segnalato questo un paio d'anni fa al nostro quartiere Borgo Panigale. Ha fatto un lavoro migliore, ha lasciato così com'era tutto, bene, è apposto, grande. È bello girare per il parto frugale con questa gente. Grazie. Grazie.